mi ciao spostati è arrivato un nuovo gattino erano in due dire la verità c'è l'antica anche sua ma quanto sei carino ciao che carino sono arrivati anche i nuovi pesci li farò vedere nuova alga pesci pagliaccio pesce scatola un altro pesce stella marina molto vicino lì c'è il prezzo nuovo pesce ci sono queste anche anche Grazie per la visione! Grazie per la visione!